Io aiuto poco... No, 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 dai, 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 che entra, dai, 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 dai! Dai che entra! DAI! Maledetto! Maledetto! Ragazzi, un saluto a vostra startida e benvenuti su Rocket League Sideswipe. Ma quanto è lungo sto nome di volta? Siamo insieme a Ricky. Non fate caso alla mia macchina. Io di mia scelta sto lasciando il Pocket Pass, anzi il Rocket Pass, che è Pocket, in modo che poi apriamo tutto in un video, va bene? Tanto scade tra 41 giorni. Ce li... sì, dovremmo raccoglierli tutti se ci riesco. E poi apriamo tutti in un video, va bene ragazzi? Che cos'è almeno è più figo? Fammi vedere che cosa ci ha regalato oggi il negozio. Dovrebbe... eh, dammi qualcosa di bello. Cos'è? Che so? Iiii! Orecchie da gatto, wow! Equipaggia, così sono seghe, zi. E vai, ci sta! Ricky, andiamoci a fare la palla canestro. Vediamo la palla canestro se ci funziona bene. Allora, fa che non siano troppo forti. Allora, mi sembrano un po' storti. Vediamo se è vero. Vediamo, perché io non sono quello che fa tutte provate. Io aspetto i momenti giusti. No! Sì, vabbè, certo, come no? Ricky, mi raccomando, il canestro lo sai qual è giusto? Non c'è bisogno che te lo dica io qual è. Non è che va a finire che facciamo come... No! Mannaggia della miseriacciola. Eh, bravo Ricky! L'assist è funzionato. Vogliamo tutti in aria! Ce l'ha fatto? Non so se è quello la para o ce l'ha fatto. Perfetto. Bella, anch'io vorrei uno sfondo nel mio nome. Non so, devo andare a vedere. Mi sa che ancora non ce li ho, ragazzi. Mi sa che non ce li ho perché, come vi ho già detto, dovrei andare. No, ok, sì, una, l'altra, una, l'altra, ok, uno dietro l'altro stiamo a fare. No, Ricky, fermati! No, 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 non dovrebbe entrare. Sì, vabbè, le provate più assurde. Aspè, perfetto l'ha parata, se la sta portando. È che purtroppo... Ok, la metto di nuovo giù. Dai, che la passo di là, non so se ci arriva lui a farlo. Dai, 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 no! No, 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 dai, dai, dai! Perché io non riesco mai che la parano sempre le mie... I miei canessi sono sfigato, che schifo! Ogni volta che tiro io viene sempre parata, perché io... Perché non riesco mai? Perché quelle di Ricky non le parate? Avanti, fatemi felice! Sì, vabbè, io che sto andando a passare sempre un aspirapolvere la mia macchina. Oh, perfetto. Ma l'ho fatto io o l'ha fatto Ricky? Forse io... Ricky! Bravo, rubi i gol! Complimenti! Vediamo se riesco a toccarla per prima. Dovrei riuscire... Oh, che bellissimo gol! Infame, sto gol entra con cattiveria! Perché non c'era il... Eh, Ricky, non c'era il difensore. Se n'è partito assieme a... Perché? Perché so assieme? Se vanno insieme, è normale che poi io tiro e può esserci il canestro. Eh, l'altro se ne deve stare un po' più in là. No! È Ricky in tutte le maniere! Ci stiamo riuscendo! Eh, non si può! Cos'è? Dove stai? Eh, ok! No! Maledetto! A parare me la fido! A fare... A fare i canestri, no! Faccio schifo! Però bella è stata la parata! Molto bella! Mizzone è andato da sotto di nuovo! Bravo! Bravo, ho detto Kinder! Eh, Ricky! Scusa! Per favore, gente normale! Non Gesù che camminano sul tetto e si tengono il pallone! Mamma, già vedo un furgoncino! Già il furgoncino la vedo proprio brutta! Eh, no! Ma che cosa ho fatto? No! Ma che cacchio ho fatto? Ah, sta! Ma che è sta brutta figura? Ma io non ci credo che l'ho tolta! Allora, piano piano! No, mannaggia! Pensavo che stasse arrivando più in alto! Ok! Aspetta, piano pianino! E poi certe volte non capisco come fanno alcuni, ma vanno più veloci di altri! Non so se c'hanno... Che c'hanno? Il boost strano? Da qualche parte... Sì, Amelia! Portala via! Che quando la vedo lì la palla mi viene un'ansia che tu non puoi capire! Maledetto! L'ho lanciata lì! No! Dai! Eh, Kaiser! Eh, no! E non è giusto così! Mamma mia, mi sento soffrire! È una sofferenza continua sto gioco! È brutto! È bello per giocarci! È brutto per subirlo! Eh, certo! Sì, vabbè! Provate assurde! Niente, non ce l'ho fatta a mandarla più di là! E devo farla! 20.000 volte la sto parando! Non so più che cosa, caspita, andarci a fare! Eh! Dimmi che ci riesci! Dimmi che ci... No! No, io veramente... Oh! Devi estrarre sto pallone! Mamma mia! La sofferenza! 36... C'è a due minuti che stiamo litigando col pallone! Ame! Fai la magia! Non so cosa dirti! Dove, caspita, sono? Dai! Non ci riesco! Ame, voglio aiutarti un po' di più! Dai! Va bene! Sì, l'ho fatto io! L'ho fatto io! Era un fantasma, ok? Brava comunque Ame! Ma che cosa stava succedendo? Cosa succede? Aspetta che gli prendo l'angolino, così lui prende e se ne va dall'altra parte! Ragazzi, io sto cercando di fare sempre il portiere! Ne ho parate, mi sa, due o tre? Mi sa, due! No, molto bella sta partita! Bravi! Allora, facciamo l'ultima! In attesa di avversari! Sì, siamo già tutti qui! Che cosa ci attendi? Le patate! Telefono anche scarico! Perfetto! Tutti felici Ame! Vediamo se ce la facciamo entro dieci minuti! No! Mamma mia! La tirano sempre in alia! Meno male che sono storti pure questi! Aspetta! No, mannaggia, peccato! Vabbè, Amelia, basta che lo fai tu! Non mi importa chi la piglia, la piglia! L'importante è farla! Dai! Sì! L'importante è farlo! Aspetta, sta dicendo Ame! Ame, aiutami! Io aiuto poco! No, 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 dai, 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 che entra! Dai, 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 dai! Dai, che entra! Dai! Maledetto! Maledetto! Ma non ci credo! No! Aspetta! Come cacchio fanno? Cioè, proprio nella linea! Cioè, ha infamata! Nella linea non si può parare mai! A me è che non arriva un pro di turno e va a fare le cose, ma... La cosa è un po' più difficile e poi diventa... Ma che pergoglio che c'è uscito! Vediamo, vediamo, vediamo... Eh, no! No, 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 no! E tanto quello va a parare! Ho capito che quello se ne sta continuamente lì! No, no, no! È troppo forte, l'ho tirata Ame! È troppo forte! Io devo imparare a toccarla col muso! Ame, non so ancora farlo! Mi dovrei tipo allenare 20 ore al giorno! Non c'ho questo tempo! Perché vado a lavorare! C'ho le live! Vado a registrare! Vado a editare! E poi cosa fai? Non c'ho manco il tempo di fare la cacca! Ok, perfetto! Ame, ci stai riuscendo, vero? Dimmi che ci riesci, Amelia! La medaglia d'oro! Perfetto! Aspetta, se io invece vado di qua e faccio così... Dai, 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 dai! Che se ci riusciamo... No! Invece se ne sono rimasti lì! Allora, io guardo un attimo Ame! No, io non ci credo! Guarda dove rimane la palla! Guarda dove ci rimane! Vai, Ame! Vai, Asta! E niente, io purtroppo ve lo continuo a dire che faccio schifo! Lancio il pallone! E no! E l'ho parata! E lui l'ha lanciata pure a sua volta! Vediamo se riesco... Ame, vediamo! Mi sto impegnando più che posso, Amelia! Quello fa le cose assurde! Non so come cacchio va a fare! Anche tu fai le cose assurde! No! Eh, i gol così a tradimento! No, però! Eh, altrimenti poi diventa brutta la cosa! No! Eh, mannaggia della miseria! No! Vediamo, vediamo, vediamo! Poco, poco! Ma dimmi che quello... No! Vedete? Cioè, capite il problema? Lo capite qual è tutto il problema, vero? Lo capite il problema dove sta? Eh, tocca il pavimento! E buonanotte! Ragazzi! Amelia! Era tipo... Nella linea di confine! A destra o a sinistra! Non si sa! Eh, la guardavamo tutti e quattro! Ragazzi! Per questo video è tutto! Lasciate mi piace! Iscrivetevi! Commentate! E condividete! In descrizione trovate Instagram e TikTok! Followate! Per chi volesse iscrivermi! O per chi volesse supportarmi! Mi trovo ogni giorno in live alle 5 del pomeriggio! Con Pokémon Unite! Clash Royale! Brow Stars! Stumbleguys! Di tutto e di più! Poi, che... Che ci sta mettendo le corna il... La colomba! Che brutta la colomba! Ciao belli! Ciao! Ciao, 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 ciao! 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 Ciao, ciao!